Mi sono iscritta a relazioni pubbliche a Gorizia perché una delle mie passioni è quella di poter comunicare e poter stare con il pubblico e quindi perché relazioni pubbliche anche per fare qualcosa per la mia regione, quindi il Friuli Venezia Giulia e anche la mia cittadina che è Cormons. Internet lo uso prevalentemente per studio e per motivi professionali, quindi ricerca di contatti, agenzie eccetera. Social network al momento non ho né Facebook né nessun altro tipo come Twitter o MSN, se utilizzo utilizzo Skype perché mi piace più la relazione e il contatto diretto con la persona. Sul portale mi piacerebbe trovare qualche iniziativa in più per il Friuli Venezia Giulia ma soprattutto mi piacerebbe trovare nuove proposte di giovani più attivi e che si facciano coinvolgere dal territorio e che rendano il Friuli Venezia Giulia più visibile sia in Italia ma anche all'estero sfruttando comunque il fatto che noi siamo una regione di confine e quindi una buona pista per la multiculturalità. Grazie a tutti.